Comunque vorrei dire una cosa, però voglio dire prima, innanzitutto che non c'è nessun piazza colore, si concludono con qualche problema, è inutile che venite da un lato a cercare cristalline dei lupini perché gli accucciarono affitto a tutti quanti, a me mi hanno chiesto di esprimere un parere, e io che non c'erano più con un musaccio tenere, dico quello che pensi, va bene? Ecco qua, andiamo avanti. Ma hanno detto, che ne pensi dei bambini di oggi rispetto ai bambini di una volta, a tutte queste norme, a tutta questa sicurezza, le norme europee e compagniabili? In una sola cosa volessi capire, io volessi sapere come sangra la colonna avevamo fatto noi, i bambini degli anni settanta e ottanta, a campagna, arrivare a vivere invece di finiremo, che quando viaggiavamo rintare la macchina non sapevamo manca che ero seggio l'uno, nel cinturino delle macchine non c'erano proprio, mostrano l'airbag a destra, a sinistra, il passeggero, il vigile che ferma i miei cavi, il bordello annanziarete, l'assistita della frenata e tutto resta preso. Noi quando eravamo a mare erano sei creatore e due adulti, un coppo di notte, un coppo di cruscotto, un coppo di terribire, un coppo di cosi, e si a tocca e si fa minuto, un coppo di frenare a mano, va a fare una cosa, uno per la destra e la destra e la sinistra, e si arrasta tutti i suoi sconchiavano i bagagli, un coppo di ditta, mentre si camminava, un anno noi cacciavamo un coppo di frenesiella e con il busto di fuori acconchiava i bagagli, un coppo di autostrada, uno andato all'ora, perché il 128 tanto fa sì, uno andato all'ora, con il radiatore acconchiava i sparatrappi, non sapevamo neanche che era la revisione, e non è mai successo niente, e a mare ci ha divertito. Ecco qua. Poi, è giocato, non è giocato, a Playstation, tutti questi videogiocchi, si cosa che si rimbambisce nella lanza della televisione, e ui, ha scelto la parte dei fuori, vedi un cazzo che mi ha fatto i servizi da casa, tornavamo in casa a te lazzariato, i ginocchi tutti spaccati, e con la sanga fuori sottavamo sotto la macchina per prendere i palloni e ci spurcavamo i feriti e grassi, non c'è mai venuto dietro da nessuno. Se andiamo a scuola, la maestra si arriva con quel buffettone, a casa mamma si arriva pure un ristro, e diceva la settimana che bene, vengo a scuola e si porta una bella crosta da quella santa donna della maestra, e se buscavamo i compagnoli, diceva veri, portati immazzati a casa, e se veri che hanno fatto buono, ma non c'ho ristrata a voto. Oggi non c'è la mia marona che ha una creatura, una maestra, ci torciano i capi, le parti nelle denunce, le tribunali, la polizia e i carabinieri, non c'è mai visto questa roba. E se la mamma resta su e sta dicendo che non è una creatura, devi studiare, devi dare d'affare, è capace che lui si mette la coppa a basso perché c'era una depressione. Noi eramo bocciati a scuola, perché l'anno non succedeva niente, mi chiamavamo ad un psicologo, un psichiatra, tutt'ora è stato preso, tutti questi scienziati che erano a avere, che erano a fare, semplicemente non ce ne studiare, non fa la pizza, è daittoso, anche se si adappiare la licenza a metà, punto e basta, la roba sembra uno mestiere, è questo! Basta, il cibo poi non ne parliamo proprio! E mi rendi un mulino bianco che interferere, tutte queste roba artefatti, tutte queste roba industriali, una felle di panna bagnata sotto la fontana, un filo di ruolo di oliva, una pizza che salta, una pomarola sciattata da coppa, ma vai a mamma mia, il pire di una caldina e fanno se fanno, ma che con il pallone si spaccano, facciamo un burdello, sa chiamavamo un coppe in montagna, rinde cantiere in montagna e sabbia città, ma coppa a basso, stiamo a casa con un bombolone, a capo sotto l'acqua fredda, ne provo che chiacchia, e ti passava paura, oh il loco, e basta! 30 anni fa, a Spesas faceva in tuo mercato, a frutto e a verdura, a roba a rullano, e ti va a correre nella terra sui, e poi ti portava in tuo mercato e ti prendeva un coppo di rotto, ma io ero in tuo supermercato, ci vuole l'etichetta, la busta con la retina, devi capire la provenienza, vai a vedere, l'arancia viene dalla Spagna, il melo viene dalla Svizzera, il pommarolo viene dalla Cina, e il pesce viene dalla Norvegia, torna a casa e le devi sterilizzare, perché sennò c'è la truppa che l'infezione, e allora metto la mucina, la parecchina, la creolina, ma io d'affa, quattro! Maronna mia, e mi dico che mi mosca la lingua, non mi faccio parlare per piacere, che mi piace con i figli! Allora, un meravigliato a la dinerfest, colazione con Zabbaglione e Camarsala, la roba a um a um, senza che nessuno ti vede, io ti faccio una piccina di Camarsala e ti buttavo in dalle capei morti, l'uovo e prendeva sempre in tuo mercato, da un signore che sotto il banco non teneva i gallini, che avevano sempre in dalle uova, ma invece li ha cattato in tuo mercato, le uova piccole, le uova medie, le uova medie o grandi, le uova grandi, le uova grandissime, allevate a terra, allevate uno a uno, allevate tutto quanto assieme, si hanno mangiato i semi, non si hanno mangiato i semi e si hanno mangiato i poveri, è tutto munnezzo, ma che vuoi di che fare? in me parlando, si dovevano freva una creatura umiera, la guardia medica, ospitalo, pronto soccorso, ad agipirino, acqua, acqua e zucchero, capisci che c'è una freva, hanno passato 3-4 giorni a stare in dolore e non ci ha scassato il cazzo, hanno lanciato la televisione, e sei pure contento che non fai a scuola, il termometro teneva un mercurio, e quando si scassava, era bello a pazzia che parlino di mercurio, poi non ci scavano il tumore, ma il termometro li ha a mettere in fronte, a dare la ricetta, a fare il culo, e non tu sapi quanta spazio in me freva dentro le creature, ma faccio che ci piace!